Con il sorriso ritrovato dopo la vittoria su Avellino, la VL continua le presentazioni dei protagonisti che stanno affrontando questa avventura bianco-rossa nel campionato di Serie A2. Oggi pomeriggio nella sede di Via Milano di Banca di Pesaro, storico sostenitore del basket bianco-rosso, hanno preso la parola i due americani dai quali ci si aspetta tanto, Khalil Ahmad e Vijay King. Sicuramente un campionato molto intenso, questa Lega è molto competitiva, qui a Pesaro c'è una grande passione per la pallacanestro, lo sapevo perché alcuni miei amici avevano già giocato qui e quindi dire sì a Pesaro era sicuramente la cosa giusta da fare. C'è tanto da fare, tanto lavoro da fare, il potenziale però lo abbiamo sia a livello di squadra che a livello individuale quindi sicuramente sono convinto che col passare delle partite potremmo fare sicuramente sempre meglio. Ho deciso di venire qui perché sicuramente è un'ottima opportunità di crescita sia a livello personale che di squadra, ci sono due obiettivi chiari da raggiungere, la stagione è iniziata in maniera molto intensa, con tante partite in poco tempo, la prima partita in casa non è andata bene, cercavamo subito di riscattarci davanti ai nostri tifosi e ci siamo riusciti però è veramente ancora molto presto per dare dei giudizi. L'avevo già visto in foto però sinceramente giocare in arena, nella nostra arena davanti al nostro pubblico fa tutto un altro effetto e mi sono reso conto davvero di cosa significa giocare in casa a Pesaro con migliaia di persone quindi il clima è ottimo sia da un punto di vista atmosferico che del clima in termini di passione. Nell'occasione della presentazione Banca di Pesaro ha annunciato anche alcune importanti novità che rafforzano i legami fra la banca e lo sport. Diciamo che la nostra sala qua di via Milano che è sopra la filiale della maestorica è occasione per mostrarla anche ai giornalisti un pochino alla stampa e quant'altro perché rappresenta per noi veramente il ferro all'occhiello, ci mancava uno spazio così dedicato e grazie alla sensibilità del Consiglio dell'amministrazione sempre pronti ad investire è andata la possibilità veramente di dare questa opportunità. La utilizziamo principalmente per convegni, sala corsi e quant'altro. Quale meglio occasione di presentarci con una partnership importante con la Vuel Carpegna Prosciutto che per noi rappresenta veramente una cosa molto importante. Al di là dell'ambito sportivo ma questa partnership vuole significare ancora una volta vicinanza alla città, vicinanza alla comunità, vicinanza allo sport e quindi un abbinamento importante Pesaro e Banca. Annunceremo questo business school, se la vogliamo essere un pochino, darci un po' di tono, in cui come Banca di Pesaro e la società Vuel hanno stretto questa collaborazione per iniziare dei seminari formativi in cui non si parla solo di sport, si parla di finanza, leadership, un argomento importante che è l'esigenza artificiale che in questo momento sta andando veramente per la maggiore in cui metteremo a disposizione la sala, metteremo a disposizione dei docenti a favore dei consorziati, aziende, clienti e qualunque persona abbia interesse ad approfondire determinati tempi.